Qual è la situazione in questo momento a Lampedusa? Lampedusa è stato teatro di enormi tragedie, di naufragi dove sono morte centinaia di persone, quello che sta facendo il governo secondo lei è sufficiente, si potrebbe fare di più? Per quanto riguarda il soccorso a mare il nostro governo mi pare sta dando il massimo dell'impegno con la Guardia Costiera, con la Marina Militare e mi pare che negli ultimi anni ci sia stata anche una rivendicazione con orgoglio del ruolo che l'Italia ha nel Mediterraneo, dovrebbe fare un po' di più sul terreno dell'accoglienza ma ci sono anche comuni che sono vittime di spopolamento e probabilmente portare in questi comuni famiglie, piccoli gruppi, nuclei di profughi, richiedenti asilo, di migranti potrebbe anche servire a rivitalizzare molti centri agricoli e interni della nostra grande Italia. Ci sono remore, paure, preoccupazioni, c'è un sistema SPRAR che ha funzionato con ritardi nei pagamenti e nei sostegni ai comuni quindi bisogna da un lato incoraggiare i comuni ad aderire alla rete SPRAR, dall'altro occorre che i sindaci sentano il dovere ma anche la responsabilità di essere più protagonisti in questo processo, restarne fuori comunque sbagliato.